cosa intende lei per eternità il mio rapporto con l'eternità cosa intende lei per eternità un artista credevo dovesse insegnare agli altri come guardare il mondo adesso non ne sono più così convinto cosa intende lei per eternità dipingo per non pensare perciò io dipingo una sorta di meditazione questo dipingo io dipingo per non pensare quindi quando dipingo io smetto di pensare perché sono un tutt'uno con ciò che faccio sento che ogni cosa fuori e dentro di me è unita e insieme volevo così tanto condividere ciò che io vedo cosa intende lei per eternità dipingo per non pensare un artista dovrebbe insegnare agli altri come vedere il mondo ma io non ne sono più convinto questo il mio rapporto con l'eternità una sorta di meditazione di pensare quando dipingo smetto di pensare sento che sono parte di ogni cosa questo è il mio rapporto con l'eternità